Buona giornata, elegantissima, la più elegante che abbiamo visto. Deve andare con noi? Senza Green Pass si torna alle chiusure, quindi noi siamo... Io ne faccio uno tutto per me allora. Dammi la bandiera. Noi puntiamo con frecce diverse allo stesso obiettivo, ma non abbiamo bisogno di fare le cose a pecoroni. Il punto di vista costituzionale viene sollevato il problema del Green Pass. Ma qual è il punto di vista costituzionale? Io non riesco a capire, perché se arriviamo all'idea che il parlamentare siccome ha un mandato non ha limiti, allora bisognerebbe dire che non c'è neanche il limite di indossare la giacca per entrare. Ed hanno organizzato una festa nella quale ci si poteva drogare liberamente con ogni tipo di droga che veniva.